Mava Fancù, versione basic, politicamente scorretta. Sul caso Giamburino è nana nera, in dialetto cirotano. Allora, Giamburino è una cosa fetosa, è proprio un tamarro, un fregato, ma non... Cornutazzo, che cornuta sarebbe la nana nera, no? Poi è la sputtanata della televisione, praticamente, come se fosse Arubunga Bunga. No, Arubunga Bunga appariva, per questa povera nana nera, anche se... anche se ideologicamente distante mille miglia dalla mia origine radicale, mi fa un po' pena da un lato. E comunque su Cugno è la stessa linea, ma... vabbè, la solidarietà in quanto donna è tradita, offesa in vilipesa, da questo Giamburunasca, Giamburino, da questa cosa fetosa e stuta marrazzo, fregato. Ok, però, voglio dire, come si dice Archerò, Cugno è la stessa linea, cioè per starci dieci anni. E non è che, insomma, erano estranei. Dice, io non sapevo. Cioè, hanno conversato, che la pensasse così. Hanno conversato, come dice Sabrina Guzzanti, per dieci anni, dieci lunghi anni. E quanto parlano e chiacchierano questi due, no? Sono logorroici entrambi. Per cui, figuriamoci, no? Dico, avranno un po' la stessa mentalità fascistoide. Non vorrei dire, non si pronuncia questo termine. Però, insomma, sui due stai fascistoni, frecate. Mava Fancusi avvicina il nome con il cognome e diventa un tuttuno. Oico Gusto, che piacere. Quando si unisce una pila cupilla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.